Dal 9 settembre Siena sarà in mostra a Bruxelles. L'annuncio è arrivato ieri durante la trasmissione su Siena TV Siena diretta sera da parte dell'assessore alla cultura del comune di Siena Massimo Vedovelli. In particolare, durante il semestre di presidenza dell'Italia alla Commissione Europea, sarà esposta una mostra dedicata al gotico senese. Non solo, l'amministrazione sta lavorando per poter esporre anche le riproduzioni degli affreschi del buon governo. Una vetrina importantissima proprio nel mese in cui si deciderà quale sarà la capitale europea della cultura per il 2019. Ascoltiamo l'assessore Massimo Vedovelli. Il 9 settembre si inaugura a Bruxelles la grande mostra sul gotico senese. Dobbiamo ringraziare il suo intervento Scalini, perché quella sarà la mostra che rappresenterà l'Italia nel suo semestre di presidenza. Si apre quella mostra, dopo Bruxelles andrà a Rouen in Francia, a me piacerebbe che tornando a Siena possa essere installata nel Santamare della Scala. Allora sarebbe un nucleo, non tutta la prima gotica, un nucleo prezioso, selezionato, capace di rendere conto dell'essenza di quell'arte. Grazie. Grazie.